Siamo qui per raccontare di un'imponente operazione di conservazione di un importante patrimonio librario che costituisce il fondo antico di questa biblioteca che è presso l'Istituto Gonzaga di Parermo. La provincia aeromediterranea dei Gesuiti insieme all'Istituto e con la collaborazione di persone competenti di tecnoambiente si rende protagonista di un'attenzione al libro molto particolare. Due volte in dieci anni abbiamo curato la disinfestazione e la depolveratura totale dei libri di questa prestigiosa biblioteca. L'intento è quello di mettere questo patrimonio a servizio delle giovani generazioni e a servizio della città di Palermo. Il libro un oggetto ma soprattutto un'esperienza nella quale si legge tanto della storia degli uomini, del loro cuore, della loro vita che viene messa a disposizione di tanti. Oggi qui siamo in un ambiente educativo, aiutare i bambini e ragazzi a rinnovare una esperienza del libro anche come oggetto è qualcosa a cui teniamo molto e che pensiamo sia fondamentale per la costruzione del futuro. È un nostro dovere civico, il nostro dovere morale, quello di custodire questo patrimonio librario nei confronti del passato ma soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Ci siamo rivolti a delle persone esperte che ci confermano come non è usuale non solo una conservazione del patrimonio librario di una biblioteca ma anche rinnovare il personale di tecnoambiente, è un personale qualificato in queste operazioni ma anche nella passione che ha guidato questa operazione. Siamo stati partner operativi ma anche partner nel rilancio del senso forte di questo rinnovo del fondo antico con la pulizia di tutti quanti i suoi volumi. Quindi siamo grati a tutti coloro che hanno collaborato a questa operazione di cura di un patrimonio prezioso, di un patrimonio che permetterà alle giovani generazioni di andare avanti camminando sulle spalle di giganti. Qui c'è il patrimonio della Compagnia di Gesù di 400 anni, sono stati raccolti materiali da parte di tutte le case della Compagnia della Sicilia. La Sicilia per i Gesuiti è stato il lancio di missioni importanti in particolare nel mondo dell'educazione. Questo patrimonio davvero vuole anche in questo momento storico in cui si guarda con diciamo trepidazione al futuro invece rilanciarlo questo futuro sulle solide basi di un passato così importante e bello. Grazie. Grazie. Grazie.